Si registra purtroppo un nuovo morto per covid in Abruzzo. Si tratta di una nuova antena della provincia dell'Aquila. Secondo il report dirammato oggi dall'assessorato alla sanità della regione, sono 39 i nuovi positivi, d'età compresa tra 3 e 84 anni. Sono stati eseguiti 2.164 tamponi molecolari e 9.861 test antigenici. 7 sono invece i guariti, 1.420 gli attualmente positivi, più 31 rispetto a ieri. Sul fronte ospedaliero si registra un lieve aumento dei pazienti ricoverati. Sono 53 in area medica, più 3 rispetto alla giornata di ieri, 5 in terapia intensiva e in tal caso il numero resta invariato, 1.362 in isolamento domiciliare, più 28 rispetto a ieri. I nuovi contagiati sono residenti in provincia dell'Aquila, dove ce ne sono 20, in quella di Chieti 12, Pescara 2, nel Teramano 3, residenza in accertamento 2.